Ventesima lezione per l'insegnamento di analisi matematica 1b per il corso di laurea triennale in ingegneria elettronica dell'Università di Ferrara. In questa lezione vogliamo estendere il concetto di integrale generalizzato che abbiamo visto per una variabile nella lezione scorsa al caso di integrali in più variabili. Nel caso di funzioni di una variabile, se avevamo una funzione definita su un intervallo a, b, valori reali, con problemi di limitatezza verso l'estremo b, nel caso in cui la funzione non fosse limitata negli intorni di b o nel caso in cui b fosse più infinito, quindi un intervallo non limitato, quello che abbiamo fatto, abbiamo definito l'integrale da a, b di f di x in dx come il limite, facendo ottenere un valore c all'estremo b da sinistra, dell'integrale da a, c di f di x in dx, ovviamente da a, c, scusate, da a, c. Ovviamente supponiamo che la f prima di arrivare a b rimanga integrabile, quindi su tutti gli intervalli da a, c, la f si è integrabile. Potendo calcolare tutti questi integrali, se ne facciamo il limite e il limite esiste, ecco, questo definisce il valore del limite dell'integrale della funzione su tutto l'intervallo, anche se ci sono dei problemi di limitatezza, quindi abbiamo a, b, supponiamo di avere una funzione che magari ha un assentato verticale, ecco, quello che facciamo, noi ci fermiamo prima di arrivare all'estremo b, quindi andiamo da a a c, e poi cosa facciamo? Allarghiamo c il più possibile in modo da avvicinarsi sempre di più a b, e tramite un'operazione di limite controlliamo la convergenza di quello che otteniamo. Quindi noi abbiamo un certo intervallo da a a b, abbiamo dei problemi in un estremo b, quindi quello che facciamo, integriamo su un dominio che in qualche modo evita il problema, e poi lo allarghiamo in modo che il dominio su cui riusciamo a lavorare, piano piano, invade tutto l'intervallo su cui ci interessava a studiare l'integrale. Ora, quando siamo in una sola variabile, praticamente il modo di avvicinarsi ad un punto, di modi di avvicinarsi ad un punto non ce ne sono tanti, se sei sull'asse reale hai un punto b, se tu ti vuoi avvicinare con un punto c, o ci vai da sinistra o ci vai da destra, non hai tante alternative, ecco. Quando si è invece in più variabili, e abbiamo una funzione definita quindi su un dominio di più variabili, se ci sono dei problemi intorno a un certo punto, problemi che so, di limitatezza della funzione, oppure se il dominio stesso presenta delle regioni di non limitatezza, quindi supponiamo che il nostro dominio non sia limitato, ci sono tanti modi di avvicinarsi ai punti dove la funzione può non essere limitata. Io potrei avvicinarmi con dei domini che si allargano, in qualche modo circondano il mio problema, ma posso farlo in tanti modi diversi, cercando sempre di evitare il punto da considerare, però piano piano riempiendo il mio dominio, oppure potrei limitare il mio dominio, poi allargarlo sempre di più per andare a prendere le regioni all'infinito, ma questo lo posso fare in tanti modi diversi. Ecco, quindi adesso cerchiamo di definire quali sono i modi per riempire un dominio evitando i punti dove abbiamo problemi di limitatezza. Quindi andiamo a definire le cosiddette successioni invadenti di domini in Rn. Quindi andiamo alla seguente definizione. Sia Omega un sottinsieme di Rn e sia Dn una successione, quindi con un indice N naturale, di sottinsiemi di Rn, quindi successione di sottoinsiemi, che li chiamiamo Dn, contenuti anche loro in Rn. Diciamo che la successione Dn invade Omega, quando intanto Dn chiediamo che sia misurabile secondo Piano Giordano, quindi possiamo definirci l'integrale di Rn sopra. Quindi Dn è misurabile secondo Piano Giordano. Poi, questa Dn, ciascun Dn è contenuto nell'insieme Omega, quindi Dn sono sottoinsiemi di Omega per ogni N, e poi questa successione di insiemi Dn è una successione crescente, cioè ciascun insieme è contenuto nel successivo, quindi abbiamo il nostro insieme Omega e i nostri insiemi, che so, D1, D2, eccetera, che piano piano si allargano, questo sarà D3, e così via, cioè ciascuno contiene il precedente ed è sempre contenuto in Omega. Quello che vogliamo, vogliamo che questi insiemi si espandano fino a riempire tutto Omega, in che senso? l'insieme dei punti di Omega che non stanno in nessuno di questi Dn, quindi se ad Omega togliamo l'unione di tutti i Dn, questa è la differenza insiemistica, che sono quindi i punti di Omega che non stanno in nessuno dei Dn, è un insieme di misura nulla, a misura nulla, nel senso che abbiamo descritto tempo fa secondo Lebeck. Questo vuol dire che andando a prendere l'unione di tutti questi Dn, non è detto che copriamo tutto Omega, ma magari possiamo lasciare fuori alcuni punti, alcune parti, che saranno poi quelle dove la funzione ha problemi di limitatezza, alcune parti che comunque costituiscono un insieme di misura nulla, quindi in qualche modo trascurabile, quindi di fatto il nostro insieme Dn invade praticamente tutto il nostro, nel senso della misura, invade tutto il nostro insieme Omega. Facciamo degli esempi, per esempio se prendiamo come Omega lo spazio R2, tutto il piano, questo è un insieme infinito, su cui non possiamo definire l'integrale di Lebeck per come l'abbiamo definito, però quello che possiamo fare, possiamo invadere il piano, ad esempio, prendendo delle circonferenze centrate nell'origine, prendo la circonferenza con raggio 1, con raggio 2, con raggio 3, e così via, poi mi allargo, quindi vado a prendere come insieme invadente Dn, l'insieme delle palle metriche di centro l'origine e raggio n, quindi questo è l'insieme dei punti x, y, tali che x quadro più y quadro è minore di m quadro, questi sono i dischi, se prendo minore uguale prendo la palla chiusa, non la palla aperta, ciascun disco ciascun disco è contenuto nel successivo, allargandosi i raggi ciascuno contiene il precedente, se andiamo a fare l'unione di tutti questi dischi prima o poi andiamo a prendere tutti i punti del piano, perché a qualsiasi punto ha una certa distanza finita dall'origine, prendendo un raggio maggiore di quella distanza quel punto ci sta dentro, quindi in questo caso abbiamo tutto r2, quindi se facciamo la differenza tra r2 e l'unione dei dischi, l'unione per n che vada a 1 è finito, in questo caso rimane proprio l'insieme vuoto, quindi di fatto è un insieme di misura nulla, anzi è vuoto. Ok, questo non è l'unico modo di invadere r2, ci possono essere tantissimi altri modi, ad esempio avremmo potuto prendere dei quadrati invece che dei dischi tondi con lato crescente centrati sempre nell'origine e quindi avrei potuto prendere la successione chiamiamola qn dei quadrati di lato n centrati nell'origine o di lato 2n quindi li possiamo anche descrivere così, la coordinata x al massimo vale n e anche la coordinata y al massimo vale n, questo descrive in modo analitico i nostri quadrati, anche qui abbiamo che ciascun quadrato è contenuto in quello di lato più grande e se andiamo a fare l'unione di tutti questi quadrati al variare di n che vada a 1 è finito, anche qui ricostruiamo tutto r2. Cerchi quadrati sono insieme misurabili secondo piano Jordan, sono anche insiemi semplici sia rispetto alla x che rispetto alla y ecco che quindi due esempi di successioni invadenti. Osserviamo anche in questo caso che poi ci tornerà utile più tardi che ciascuno dei dischi della prima successione è contenuto in uno dei quadrati della seconda e ciascun quadrato è contenuto in un disco della seconda. infatti abbiamo la seguente osservazione se voi prendete il disco di raggio n questo è contenuto nel quadrato di lato 2n centrato nell'origine quindi abbiamo che il disco n è contenuto nel quadrato n a sua volta il quadrato di lato 2n quindi dove le coordinate vanno da meno n a n se voi puntate il compasso nel centro nel centro del quadrato e lo aprite con un raggio pari al distanza del centro dal vertice ecco che qui c'è una circonferenza che contiene tutto tutto il nostro quadrato se questo segmento qui è lungo n la diagonale sarà n per radici di 2 quindi se voi prendete se prendete m maggiore della radice di 2 per n avete che il quadrato qn è contenuto nel disco di raggio m quindi in qualche modo sono incastrati ogni quadrato può essere coperto da uno dei dischi ogni disco può essere coperto da almeno uno dei quadrati vediamo un altro esempio che ci sarà utile fra poco andiamo a prendere sempre nel piano come insieme omega da invadere l'insieme dei punti x y contenuti nel primo quadrante quindi con la x maggiore di 0 con la y maggiore di 0 e contenuti nel disco di raggio 1 e centro all'origine quindi con x quadro più y quadro minore o uguale di 1 però ad esclusione dell'origine togliamo l'origine quindi andiamo a disegnare questo insieme siamo nel primo quadrante il nostro insieme omega quindi è contenuto dentro al disco di raggio 1 vogliamo stare nel primo quadrante e togliamo però l'origine quindi si tratta di questa di questa regione qui compreso il bordo tranne l'origine ecco facciamo vedere che ci sono diversi modi di invadere questo dominio per esempio possiamo fare prendere al variare di n tutti tutti i punti che hanno ascissa maggiore di 1 su n quindi se qui abbiamo 1 su n andiamo a prendere la porzione di dominio supponiamo di avere dei problemi qua nell'origine in qualche modo vogliamo cercare di evitare di avvicinarsi all'origine quindi posso farlo chiedendo alla x di non annullarsi di stare a distanza da 0 quindi andiamo a prendere i punti x e y tali che x e y appartiene a omega e la x è maggiore di 1 su n oppure potevo prendere l'insieme dove facevo la stessa cosa con la y quindi evitavo di avvicinarmi all'origine mantenendo la y a una certa distanza da 0 quindi potevo prendere insieme di questo tipo qua è chiaro che quando n tende all'infinito queste reti si avvicinano agli assi e piano piano il nostro dominio invade tutto la regione omega tutta o quasi oppure potevamo anche prendere come c terza scelta l'insieme cn dove prendo tutti i punti di omega che distano almeno 1 su n dall'origine quindi quelli che stanno fuori dal dischetto di raggio 1 su n quindi i punti x y di omega tali che x quadro più y quadro sono maggiori di 1 su n quadro non la distanza al quadrato ok se andiamo a fare intanto è chiaro che tutti questi insiemi soddisfano la proprietà di monotonia quindi a con n è incluso in a con n più 1 b con n è incluso in b con n più 1 c con n è incluso in c con n più 1 se andiamo a prendere l'unione degli a con n abbiamo tutti i punti che hanno sempre ascissa maggiore di almeno di un numero 1 su n ma 1 su n tende a 0 quindi qualsiasi numero con ascissa positiva viene inglobato in uno degli a con n quindi qui alla fine avremo gli x y tali che x y appartiene a omega e x è maggiore di 0 quindi questo qui sarà tutto l'insieme omega tranne i punti di tranne i punti di di ascissa 0 cioè tranne i punti dell'asse y quindi meno i punti della forma 0 y con y compreso fra 0 e 1 ecco questi punti qui sono formano un segmento che comunque è a misura nulla e quindi in qualche modo a con n invade nel senso della definizione che abbiamo dato noi la stessa cosa lo possiamo dire per i b con n però sull'asse x l'unione di b con n sarà data da tutto omega meno i punti che si trovano sull'asse x perché i punti di b con n hanno sempre coordinata y strettamente positiva non ci saranno i punti della forma x 0 con x compreso fra 0 e 1 se andiamo a fare l'unione invece dei c con n beh i c con n vanno a prendere tutti i punti tranne quelli che stanno nell'intorno di raggio 1 su n ma quando n tende a infinito 1 su n tende a 0 quindi alla fine l'unico punto che rimane escluso è l'origine che era già escluso in partezza in questo caso quindi l'unione dei c con n mi ricostruisce tutta tutta omega senza lasciare indietro nessun punto ecco noi fra poco faremo un esempio in cui andremo a utilizzare queste tre successioni invadenti per calcolare degli integrali generalizzati in tre modi diversi quindi qual è l'idea per procedere allora supponiamo di avere una funzione f su un certo dominio omega a valore in r non necessariamente limitata e non necessariamente omega un dominio limitato e supponiamo che comunque esista una successione di con n che invade che invade omega tale che f sia limitata su dn e anche integrabile nel senso di Riemann su dn quello che vorremmo fare è definire l'integrale di f integrale multiplo x è una variabile in rn fatto su omega lo vogliamo definire metto ancora dei punti di domanda come il limite degli integrali sui dominio di n che sappiamo fare e poi portando n all'infinito quindi piano piano i dn si allargano si gonfiano vanno a riempire tutto omega integrando su ciascuno insieme speriamo che poi di ottenere il valore dell'integrale finale ma come dicevo prima ci sono più modi di invadere un dominio l'abbiamo visto prima col dominio omega dove avevamo a n b n c n la domanda è ma questa procedura mi produce un valore univoco per l'integrale omega cioè è ben definita purtroppo la risposta in generale al momento è no e vediamo un esempio dove possiamo ottenere risultati diversi a seconda del del dominio di integrazione a seconda della successione che invade il dominio di integrazione quindi consideriamo la funzione scegliamo questa funzione qui f di x y definita come al denominatore mettiamo x quadro più y quadro che è la distanza dall'origine al quadrato tutta di nuovo al quadrato quindi la distanza dall'origine alla quarta e al numeratore mettiamo x quadro meno y quadro ok e andiamo a integrare proprio sul scegliamo come dominio di integrazione proprio quel dominio che abbiamo descritto prima nell'ultimo esempio cioè i punti x y tale che siamo nel primo quadrante e siamo dentro al disco di raggio 1 centro all'origine però evitiamo l'origine nell'origine la nostra funzione ha un denominatore che si annulla quindi probabilmente può assumere valori anche molto grandi avvicinandoci a 0 infatti se andiamo a fare per esempio il limite per x che tende a 0 di f di x 0 qui troviamo il limite per x che tende a 0 quando le y non è 0 abbiamo x al quadrato diviso x alla quarta e questo limite mi dà più infinito se facciamo invece il limite per y che tende a 0 di f 0 y quindi viene il limite per y che tende a 0 di meno y alla seconda diviso y alla quarta e questo fa meno infinito quindi vedete in qualsiasi intorno dell'origine abbiamo valori che spaziano da meno infinito a più infinito ok adesso proviamo a calcolare gli integrali su a n b n c n che abbiamo definito prima e vedere cosa succede quando ne facciamo il limite per n che tende a infinito quindi adesso calcoliamo l'integrale di f su sull'insieme a n ricordo che a n era l'insieme dei punti x y dove la coordinata x era maggiore di 1 su n quindi dobbiamo aggiungere solo la condizione quindi che x è maggiore di 1 su n e le altre rimangono le stesse y maggiore di 0 e x quadro più y quadrato minore di 1 questo insieme l'abbiamo visto prima è un dominio semplice lo possiamo scrivere come dominio semplice rispetto all'asse y la x varia da 1 su n a 1 e quando integro in y integro con segmenti verticali che partono dall'asse x e arrivano alla circonferenza quindi questo dominio lo posso pensare come l'insieme degli x e y tali che la x varia fra 1 su n e 1 e la y varia da 0 alla circonferenza che non è altro che il grafico della funzione 1 meno x quadro sotto la radice quadrata lo ricaviamo da questa disequazione e quindi quando vado a fare l'integrale della f avrò l'integrale con la x che varia da 1 su n a 1 l'integrale con la y da 0 alla radice di 1 meno x quadro della nostra funzione quindi avremo x quadro meno y quadro fratto x quadro più y quadro al quadrato facciamo prima in dy e tutto quello che otteniamo in dx vediamo come calcolare questo integrale l'osservazione per rendere semplice il calcolo è la seguente questa funzione l'abbiamo ottenuta in realtà facendo la derivata parziale rispetto a y della funzione y fratto x quadro più y quadro se voi provate a fare i calcoli la derivata di questa funzione razionale e semplificata ottenete esattamente questo ve lo lascio come verificatelo verificatelo questa osservazione mi permette di calcolare l'integrale in modo molto semplice perché adesso l'integrale l'integrale di x quadro meno y quadro fratto x quadro più y quadro al quadrato in dy fatto fra 0 è un certo estremo a questo non è altro che il valore della sua primitiva quindi questa funzione quando la y vale a e quando la y vale 0 in 0 quando la y vale 0 questa quantità è nulla quindi mi rimane a fratto x quadro più a al quadrato ora se a è la radice di 1 meno x quadro qui troviamo radice di 1 meno x quadro fratto x quadro più a al quadrato più 1 meno x quadro quindi mi viene radice di 1 meno x quadro quindi facciamo i nostri conti andiamo avanti con il nostro integrale che stavamo calcolando e quindi mi rimane integrale da 1 su n a 1 della radice quadrata di 1 meno x al quadrato e questo è quindi l'integrale su a con n quindi se adesso andiamo a fare il limite per n che tende all'infinito dell'integrale doppio sul dominio a n di f di xy in dx di y questo non è altro che il limite per n che tende all'infinito dell'integrale di 1 su n a 1 di radice di 1 meno x al quadrato in dx ma questo per definizione di integrale generalizzata non è altro che l'integrale da 0 a 1 della radice di 1 meno x quadro in dx quanto vale questo integrale questo è molto semplice perché la funzione radice di 1 meno x quadro ha come grafico proprio la circonferenza che delimita il nostro dominio no? questa y uguale radice di 1 meno x quadro quest'arco di circonferenza quindi qui stiamo praticamente calcolando l'area sotto un quarto di cerchio l'area è pi greco r quadro r è 1 quindi pi greco quarti questo è il suo valore se facciamo adesso la stessa cosa con gli integrali con gli integrali su bn di f di x y in dx bn di y cosa cambia? è sempre lo stesso tipo di calcolo questa volta bn alla y che varia fra 1 su m e 1 e quindi facendo lo stesso gioco di prima però scambiando la x con la y riusciamo ad arrivare in fondo però attenzione questa volta osserviamo che la nostra funzione x al quadrato meno y al quadrato quando quando noi scambiamo la x con la y cambia di segno quindi di fatto questa qui la possiamo anche scrivere come la derivata rispetto a x non di x fratto x quadro più y quadro ma questa volta ci dobbiamo mettere un meno dobbiamo cambiare di segno quindi facendo esattamente gli stessi calcoli di prima però con la x e la y scambiato quello che otteniamo otteniamo non più il valore pi greco quarto ma otteniamo il valore opposto cambiato di segno meno pi greco quarto a casa fate tutti i passaggi così vi rendete conto di questo cambio di segno che è dovuto al fatto che stavolta nella derivata parziale ci dobbiamo mettere un meno e quindi già vedete che c'è un piccolo problema qual è il valore dell'integrale che dobbiamo considerare su tutto il dominio omega più pi greco quarti o meno pi greco quarti e per raggiungere confusione a questo problema proviamo ad andare a calcolare l'integrale su cn della nostra funzione f di xy in dx su cn è un dominio invece che ha una forma di un è un settore circolare di una corona circolare che con il raggio che va da 1 su n a 1 quindi proviamo a farlo in coordinate polari in coordinate polari abbiamo un angolo teta coordinate polari centrate nell'origine abbiamo un angolo teta che varia fra 0 e pi greco mese fra 0 e 90 gradi quindi avremo un angolo teta fra 0 e pi greco mezzi e una variabile radiale che varia fra 1 su n e 1 il raggio e quindi dopo dovremo mettere f la x sarà r cos teta la y sarà r sen teta in coordinate polari centrate nell'origine quindi avremo x quadro meno y quadro al numeratore quindi raccogliamo un r quadro coseno di teta al quadrato meno seno di teta al quadrato e al denominatore abbiamo un x quadro e y quadro al quadrato tutto al quadrato quindi è un r alla quarta e poi siccome abbiamo cambiato coordinate polari con il sistema di coordinate in coordinate polari dx dy diventa r dr d teta quindi r dr d teta e quindi cosa viene fuori viene fuori questo integrale qui intanto abbiamo questo 1 su n fa parte del disegno abbiamo un r al quadrato un r diviso un r alla quarta quindi abbiamo un integrale da 1 su n a 1 di 1 su r in dr questo è il contributo della variabile radiale le variabili si separano perché negli estremi di integrazione non compare nessuna relazione fra le due variabili la variabile angolare è l'integrale da 0 a pi greco mezzi di cosquadro meno senquadro ma coseno al quadrato meno seno al quadrato non è altro che il coseno di due volte l'angolo formule di duplicazione del coseno quindi abbiamo coseno di 2 teta in d teta e questi sono integrali facili da calcolare il primo integrale mi da un meno logaritmo di 1 su n quindi mi da un logaritmo di n il secondo integrale mi da il seno di 2 teta diviso 2 questa è la primitiva del coseno di 2 teta calcolato fa 0 e pi greco mezzi ma in 0 il seno si annulla 2 teta due volte pi greco mezzi fa pi greco il seno si annulla anche in pi greco questa quantità qui fa 0 qualsiasi sia n e quindi mi viene sempre 0 e quindi il limite degli integrali sul cn della nostra f mi da 0 per n che tende a infinito quindi chi è il valore dell'integrale che è il valore dell'integrale sul dominio omega che è invaso sia da n che da bn che da cn se usiamo la successione a con n ci viene da dire che dovrebbe essere pi greco quarti se usiamo la successione b con n ci viene da dire che dovrebbe essere meno pi greco quarti se usiamo la successione invadente cn ci verrebbe da dire che è 0 dove sta la verità il problema è che in questo caso ecco non c'è non esiste un limite univoco dipende dalla successione approssimante che abbiamo usato cioè dipende dal modo con cui ci siamo avvicinati all'origine dove c'erano i problemi di non limitatezza della funzione